La zanzara Mi sono fatto ricoverare io in ospedale perché non riuscivo a capire cosa avevo Il professor Zangrillo continuava a dirmi tachipirina, antibiotico, questo, questo Prendevo la tachipirina da 39,7 e scendeva a 39,4 Dopo due ore 39,7 Per cui vivevo di tachipirina Cioè era... Davide! Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due Si Si Ma va a cagare, vedi che non dici altro, ma colpa a te Si vede che hai provato qualcosina, parlano, parlano, le tue pupille Ma male che cojon, impara a parlare che non sai che c'è ora E adesso che mi prendi per la mano, facci piano, adesso mi stringi così Si Io sento il cuore a mille E qui è commovente, Filomena E Simona Simona Mamma mia, allucinante, allucinante Ma fai lo star zitto, struca il cojon, fai lo star zitto Ciao Il professor Tangrilo continua a dirmi tachipirina Cosa So